19 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna destinate ai ragazzi più meritevoli di ogni squadra della C perugia Calcio, compresa la formazione femminile, scelti dai dirigenti alla fine della stagione agonistica per essersi contraddistinti per rendimenti scolastici e calcistici. A stanziare questi riconoscimenti è stata l'azienda romana Petra 2011, nuovo seco sponsor del Perugia Calcio, da pochi mesi è entrato a far parte della famiglia Biancorossa e che al museo della società sportiva allo stadio Renato Curi ha presentato il progetto Petra Supportunities. È un progetto che è volto appunto a far sì che possa essere espresso al meglio il talento dei giovani, di avere una vicinanza da parte di un'azienda che comunque fa sì che ci possa essere la possibilità per questi ragazzi di avere un concreto sostegno economico affinché loro lo possano sfruttare per il proprio futuro. Spero che questa iniziativa, come le prossime che verranno messe in campo, creino un circolo virtuoso affinché io possa dare l'input a persone che magari vogliono sposare il progetto, ovvero quello principalmente di dare un concreto sostegno a questi ragazzi. Petra appunto insieme a Perugia Calcio ha voluto realizzare questo progetto che riguarda 19 squadre precisamente e di conseguenza chi si meriterà questa borsa di studio alla fine dell'anno tramite una cerimonia avrà un aiuto significativo agli studi. Come azienda noi già negli anni precedenti abbiamo sempre investito nello sport e nei giovani e poi con le borse di studio hanno poi deciso appunto di rinvestirli nell'acquisto dei materiali scolastici dei libri o nei kit appunto sportivi del materiale tecnico e quindi perché no? Lo sponsor sì deve farsi pubblicità ma deve sempre ricordarsi che come prende deve saper dare. Grazie a tutti.